...di mobilità sostenibile. Detto questo darei la parola adesso alla rappresentante del Comune della Cagione che a nome anche della consulta Casalastica darà un saluto di noi alla manifestazione a nome dell'istituzione di Casalastica. Prego. Grazie a tutti quelli che hanno raggiunto Casalastica e a tutti i sindaci del Casalastica Grazie ancora al Comune di Casalmaggiore per l'impegno e perché ci ha creduto in questa manifestazione. Ecco che sta arrivando la scritta di cui vi avevo parlato. Questo è il messaggio della nostra manifestazione a tutto il mondo. Oggi in tutto il mondo ci si mobilita per il clima e anche il Casalasco è presente. Ragazzi su tre file al centro della piazza. Dietro salviamo, poi il clima davanti. No, scusate. Dovete guardare qua. Vedetevi là. Salviamo dietro. Il al centro, clima o davanti. Salviamo dietro. Salviamo dietro. Retrate, retrate. La scritta rossa, il clima, davanti. Davanti. Poi si deve leggere dal balcone. Sì, poi ne facciamo un'altra, sì certo. Dopo che abbiamo, per l'esigenza dei fotografi, ci mettiamo in tutte le posizioni possibili. Salviamo, lo farai arretrare ancora un po', se no non si legge. Arretrate e centratevi con il listone. Centratevi con il listone. Guardate dove siede. Centratevi, centratevi. Allora, in attesa di proseguire poi la manifestazione, questo momento importante...